ciao amici ciao a tutti allora spero che state tutti bene io mi sono presa un periodo di pausa ho avuto insomma un po da fare in famiglia le cose vanno tutto tutto a posto quindi ho ripreso a fare le esplorazioni state tranquilli allora ci sono delle nuove esplorazioni in uscita un'esplorazione dentro un convento che uscirà in settimana però non è stata completata del tutto perché dovrò ritornare a fare il resto dell'esplorazione perché purtroppo nel in una zona dell'edificio c'erano delle persone quindi io non ho fatto l'esplorazione e ho lasciato a metà la cosa però ci tornerò in settimana e completerò questa esplorazione poi ci sarà un'altra esplorazione molto interessante questo è un luogo che ho trovato io ed è una specie di come posso dire una corte una corte con tante case antiche e chissà cosa ci ritroveremo dentro cosa ci sarà dentro sarà sorpresa comunque anche quella è un'esplorazione che uscirà questa settimana quindi fate tutti collegati seguitemi e poi volevo dire un'altra cosa a tutti i miei amici urbex i colleghi urbex che io sabato prossimo sarò presente alla festa che si terrà a spinodadda quindi ci sarò anch'io insieme agli altri ragazzi che parteciperanno a questa bellissima festa quindi non perdetevela cercate di venire in tanti perché sarà un piacere conoscervi davvero è tutto qui allora io appunto per andare alla festa farò le esplorazioni durante la settimana e cercherò di far uscire i video prima di sabato così almeno avete qualche contenuto da vedere adesso oggi è uscito un breve video però quelli belli usciranno nei prossimi giorni seguitemi sempre e a breve ci sarà anche una diretta live vi farò sapere quando ma sicuramente prima delle vacanze faremo una diretta poi io staccherò un po andrò in vacanza e riprenderò in autunno va bene comunque ci saranno altri video da vedere prima di andare in vacanza quindi state sempre collegati iscrivetevi al canale fatemi tanta pubblicità perché sto crescendo anche se lentamente però a me fa piacere crescere e diventare andare sempre più in alto ecco e portarvi degli ottimi contenuti che a voi possono far piacere e quindi vi saluto e vi auguro una felice settimana e buona estate anche se a milano l'estate non è ancora arrivata quindi piove sempre però vabbè ci accontentiamo tanto prima o poi andremo in vacanza tutti quindi ci godremo l'estate vabbè per per me va meglio che piove perché almeno le esplorazioni le facciamo un po più al fresco perché quando fa molto caldo voi lo sapete benissimo è difficile andare a fare le esplorazioni è veramente molto faticoso quindi chi fa le esplorazioni e un urbex lo sa benissimo che il caldo non ci aiuta quindi per noi va bene così finché siamo stiamo lavorando per fare nuovi video ci va bene questo tempo così un po pazzerello va bene vi saluto a tutti e vi aspetto sabato sera alla festa c'è una bellissima location tanto i ragazzi hanno fatto la pubblicità sicuramente teo corda urbex baby photos insomma tutti i ragazzi che hanno organizzato questa festa li ringrazio tutti perché è una bella cosa è un bel un bel modo di conoscerci di vederci di passare una serata in grande compagnia ciao ciao amici un abbraccio a presto ciao